Cari ragazzi, in questo momento della vita siete di fronte a scelte cruciali che determineranno il vostro futuro. Sono oggi qui a suggerirvi di viverlo con quanta più serenità possibile come un periodo stimolante e profondamente arricchente. Verona Fiere, da più di 30 anni con un job orienta, si impegna insieme alle importanti istituzioni coinvolte ad accompagnarvi nelle scelte sia scolastiche che professionali. In particolare in quest'anno che l'Europa ha voluto dedicare alle competenze, JobOrienta 2023 sceglie come focus tematico orientamento made in Italy per evidenziare la necessità di nuovi modelli di orientamento per rispondere al meglio alle diverse vocazioni economiche produttive del Paese. La rassegna infatti si pone l'obiettivo primario di rispondere alle vostre domande e aiutarvi a focalizzare mete e sviluppi concreti. Il mio augurio è che possiate affrontare questo percorso con la consapevolezza necessaria, seguendo le vostre aspirazioni e senza porre limiti alla vostra ambizione. Vi aspettiamo numerosi a JobOrienta in Fiera Verona dal 22 al 25 novembre. Grazie a tutti.